Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob, sono un filosofo e questa è l'analisi dei temi per Steel Wakes The Deep. Ho terminato da poco il titolo di The Chinese Room, un survival horror ambientato tutto nel 1975, a Natale in particolar modo su una piattaforma petrolifera. Il titolo mi è piaciuto dal punto di vista narrativo, meno da quello ludico, ma ne parleremo poi in sede di recensione. Qui voglio fare un'analisi dei temi che sono presenti nel gioco, perciò il video sarà pieno di spoiler, quindi se non siete interessati al momento perché volete magari completare il titolo, tornate sul video più avanti. E partiamo subito con il primo tema che è quello che riguarda l'essere uomo, nel 1975 in generale essere proprio uomo che deve prendersi le sue responsabilità. E infatti noi seguiamo la storia di Kaz, questo fondamentalmente impiegato su questa piattaforma petrolifera. Lui non è in grado di compiere chissà quale mansione, non ha chissà quale titolo, però è stato portato come lavoratore da Roy, un suo amico che invece fa il cuoco lì all'interno, per dare una mano, se la cava con l'elettricità e quindi è stato inserito all'interno della squadra. Ma i problemi iniziano subito perché lui ha colpito qualcuno durante una rissa in un locale e la polizia lo sta cercando ed è proprio per questo motivo che lui si va a rifugiare su questa piattaforma petrolifera per far passare del tempo e sceglie proprio la fuga, l'andare via dalla sua famiglia, lui ha una moglie e due figlie, per evitare i guai. E quindi già abbiamo un uomo che sceglie la fuga piuttosto che affrontare le proprie responsabilità in questo contesto, dovendo prendersi cura anche di una moglie e di una figlia in un tempo storico che ci viene comunque presentato nella classica dinamica ah stai fuggendo dalle tue responsabilità, io ti amo ma se tu fuggi poi non so se mi ritroverai, devi prenderti cura della famiglia, devi prenderti cura della casa, quindi una idea di vita anche molto impostata da questo punto di vista, cioè la casa, la famiglia, prendersi cura dei figli che ovviamente è giusto ma dà proprio l'impostazione base magari delle famiglie del 1975 e lui quindi fugge un po' egoisticamente, codardamente su questa piattaforma petrolifera sono solo quattro mesi di lavoro ma ovviamente le cose non possono andare bene a parte che ci si muore di freddo, poi c'è il suo capo che una volta che riceve la chiamata della polizia per un'investigazione proprio su di lui, ovviamente va su tutte le furie, è il classico capo che vuole schiavizzare i suoi lavoratori ma giustamente chi accetta un tipo di lavoro del genere lo fa per guadagnare qualche soldo, è un lavoro orribile lontano da casa, nel freddo, con pericoli che comunque sono costanti, in un posto lontano da qualsiasi terreno è privo delle modernità che magari ci sono adesso per tenere sotto controllo tante dinamiche, è vero che la piattaforma è fatta anche molto bene, ha lo spazio per un elicottero però comunque è sempre un lavoro molto rischioso, infatti il gioco inizia proprio con lui che deve recarsi dal capo per ricevere la ramanzina che è più di una ramanzina perché lui viene licenziato, il punto è che però qualcosa non va con la trivella di estrazione del petrolio e da lì inizia tutta la dinamica con questa creatura che loro risvegliano dal fondale marino che inizia a impossessarsi della nave e anche dei membri dell'equipaggio. Tutta la trama si svolge proprio seguendo questo filone, cioè sulla volontà che ha lui di tornare dalle sue figlie, la comprensione che lui ha del fatto che probabilmente non avrebbe mai dovuto lasciarle, lui prende un po' alla leggera il fatto di scappare, è una decisione che magari avrebbe dovuto ponderare meglio e ha sempre comunque però la voce della moglie che quando inizia piano piano a modificarsi lui stesso una volta che entra in contatto con questa entità gli risuona in testa la voce della moglie. C'è da dire che la moglie non è che ce l'ha con lui, sicuramente gli invia delle lettere, dei messaggi, ma gli invia anche dei messaggi positivi, cioè fondamentalmente arriviamo anche alla fine, gli dice che lei comunque lo ama e che poi se torna in qualche maniera risolveranno tutto. Però il gioco diventa e anche coinvolge il giocatore anche per questo, cioè per questa idea per cui tu vuoi che lui sopravviva comunque perché va bene che magari non è proprio l'uomo migliore del mondo però comunque un lieto fine tu vuoi sperarlo e vuoi cercare di fare in modo che lui sopravviva. E tutta la trama ti spinge a fare questo salvo poi arrivare al finale e vedere che lui fondamentalmente si sacrifica come tutto il resto dell'equipaggio che tanto ormai è preso dopo veramente peripezie, dopo aver scappato, essere scappati da qualunque cosa, essere fuggiti da qualunque cosa lui rimane da solo ma decide di utilizzare l'accendino per bruciare tutto il petrolio che era fuoriuscito proprio laddove la creatura si stava annidando intorno alla torre, alla trivella di estrazione per sconfiggere una volta per tutte perché poi se fosse arrivata sulla terraferma probabilmente si sarebbe diffusa in tutto il mondo questo è quello che ci lasciano intendere anche se un po' vago e privo di spiegazioni però fondamentalmente lui si sacrifica anche per la sua famiglia perciò una delle tematiche che il gioco tratta in queste quattro ore che quindi non ha tutto il tempo di sviscerarle né di renderle chissà quanto profonde però è la storia di un uomo che da codardo in fuga che abbandona moglie e figlie per trovare una soluzione a un problema di rissa che lui ha scatenato lui stesso invece di prendersi le sue responsabilità e rimanere legato alla famiglia decide di andare comunque in un posto lontanissimo a patire comunque il freddo, le difficoltà e tutto quanto per poi poter tornare magari cercare di sistemare tutto e ovviamente poi dovrà prendersi invece le sue responsabilità e le responsabilità più drammatiche cioè quelle di sacrificarsi comunque per un po' il bene di tutti dopo aver perso anche il suo amico nel tentativo di fuga questo è uno dei temi che sicuramente è presente appunto non troppo sviscerato però è un filo conduttore della trama che parte da un uomo che cerca di fuggire dalle sue responsabilità a uno che si assume quella più drammatica cioè sacrificarsi questo diciamo era fondamentalmente il tema principale perché poi appunto la storia dura poco e tutta incentrata su lui come personaggio però un altro tema presente che è interessante comunque un po' sviscerare che però non è né troppo originale né particolarmente indagato però fa molto effetto è quello che riguarda l'umanità preservata dei membri dell'equipaggio che vengono trasformati da questa strana presenza sostanza che loro scoprono con la trivellazione è interessante perché rispetto a dei nemici che non hanno alcun ricordo che diventano semplicemente dei mostri che ti braccano per tutto il gioco nonostante si è inseguiti da questi mostri che mantengono peraltro il volto delle persone vere fanno molta impressione soprattutto Renik in particolar modo tutti quanti mantengono anche una sorta di propria identità e di umanità soprattutto perché nel braccarli nel braccare il nostro personaggio chiedono aiuto cioè è come se la loro volontà sia quella comunque di salvarsi di tornare normali ma lo fanno in una maniera talmente aggressiva talmente forte che attacca gli altri membri dell'equipaggio forse per metterli tutti quanti insieme perché in alcuni casi vediamo che vengono trasformati in altri vediamo che muoiono e basta con tutto il residuo organico di questa sostanza di questa creatura che rimane addosso quindi forse vogliono semplicemente impossessarsi di tutti quanti e alcuni li utilizzano proprio per cercare di prendere più possibile per stanare quelli che sono rimasti però mantenendo la loro umanità cioè ricordano i nomi sanno anche a chi si stanno rivolgendo e diventa una sorta di anche qui umanità che viene preservata ma dall'altra parte no perché comunque poi gli istinti aggressivi e predatori invece vengono esaltati però fa effetto ritrovarsi a voler scappare dal nemico ma nel frattempo sentire che vogliono essere aiutati o il Rennick stesso che non vuole morire annegato lì non vuole morire così che è molto strano fa molto effetto e devo dire che è una cosa che è appunto di impatto e che ha a livello di tematica perché questo? perché in un gioco in cui tu non puoi attaccare non puoi sconfiggere i nemici proprio come genere videoludico ti rimane soltanto il fatto di scappare di evitarli il fatto che ci sia questa ambiguità di relazione fra il personaggio e il nemico è comunque interessante perché se fosse stato un nemico impersonale sarebbe stato il classico gioco in cui tu devi scappare la volta che ti prende va bene è andata così e poi ti ci diverti nel senso che inizi a fare a nascondino va un po' così ma il fatto che fai a nascondino con loro è che tu sei in parte hai questa sorta di malinconia per il fatto che comunque quel personaggio lì lo conoscevi ovviamente non per tutti quanti non per Rennik però non per tutti perché alcuni non ti ricordi i nomi dura talmente poco il gioco che non riesce a affezionarti a tutti i personaggi però fa comunque ti dà quella sensazione diciamo un po' triste per cui non puoi fare niente per loro puoi solo scappare e anzi devi fare in modo che magari appunto muoiano o ti lasciano in pace e che e questa comunque è una cosa che ha un impatto peraltro non è chiaro se questi nemici poi ti uccidano perché quello che avviene fondamentalmente è che tutto lo schermo si riempie diciamo di una specie di visione come la sostanza organica di cui sono fatti e come se quindi tu venissi assimilato un po' a loro e questo è interessante terzo tema di cui voglio parlare invece è quello che riguarda più il luogo specifico perché? perché secondo me la piattaforma su cui è ambientato tutto il gioco è un'ambientazione molto molto valida e anche molto interessante nel senso che fa parte di quelle ambientazioni staccate dalla realtà che rimangono come luogo dove si svolge tutta la vicenda e che sono molto rari ormai nei videogiochi in questo tipo di videogiochi magari è un po' più facile nel senso anche se pensiamo a Nisi e a The Bunker tutto all'interno di un bunker comunque è una singola ambientazione però la piattaforma petrolifera secondo me è ancora meglio perché vive di interni ed esterni è in un continuo passaggio in cui sai che qualcosa di fuori sta avvenendo che si sta modificando che sta cambiando ed è bello ritornare negli stessi posti però modificati dagli eventi che sono accaduti e questo avviene in pochi giochi e ho fatto un articolo al riguardo per The Games Machine un po' di tempo fa in cui parlavo proprio di questi luoghi in cui tu entri all'interno esci ma sei sempre all'interno di questo posto e vivi tutto il gioco lì come possa essere Shadow Moses per Metal Gear ma anche Rapture in Bioshock ovviamente non è la stessa cosa però un po' di percezione di un'ambientazione che comunque ti avvolge ti fa stare lì all'interno e che ti dà da sola delle implicazioni tematiche cioè perché comunque siamo in una piattaforma lontana dal mondo in mezzo al mare dove non c'è la possibilità di dire ok chiamo qualcuno mi faccio venire a prendere attiva una nave e mi salva prendo l'elicottero e me ne vado faccio arrivare qualcuno non avviene questo sei da solo sei da solo da un'altra parte come poteva essere magari Rapture non era così immediato fuggire da Rapture quindi è interessante questo aspetto e il fatto che si passa a tutti in tutti i punti e il gioco ti dice appunto questa cosa se no non l'avrebbe fatta ogni posto qual è cioè alloggi ingresso pontoni parte inferiore è interessante perché appunto ti dà la sensazione che tu ti muoverai per tutta questa piattaforma che è anche molto grande molto più grande di te invece tu però comunque la attraversi tutta quanta e questo questo secondo me è interessante e serve a dare atmosfera ed è uno delle tematiche cioè il vivere in un posto lontano non sapendo di non poter tornare immediatamente a casa di potersi parlare soltanto con i telefoni se dall'altra parte c'è qualcuno cioè non ci sono i cellulari si parla semplicemente al telefono del dover riattivare la corrente e farlo davvero manualmente sistemando le problematiche manuali meccaniche che ci sono in una struttura del genere una struttura grande immensa che dici come la tengo su da solo come faccio a gestirla da solo e poi comunque piano piano facendo le cose vedi che le cose un po' si sistemano che la piattaforma diventa stabile ovviamente nel limite di quello che può fare e coinvolge il giocatore ed è secondo me una delle tematiche anche narrative importanti che sono presenti nel gioco abbiamo finito la nostra rassegna dei temi perché non ne sono presenti chissà quanti non vado a sviscerare più di tanto nella presenza organica perché è molto diciamo standardizzata nel senso non viene approfondita più di tanto fa parte di quelle storie in parte ma non voglio citarlo sempre Lovecraftiane ma anche storie dei mari che convolgono tutte le culture che hanno a che fare col mare con gli oceani con gli spazi così aperti come possa essere la Scozia e quindi questo aspetto è interessante ma siccome il gioco stesso non lo approfondisce più di tanto lasciando che sia ciò che vedi e ciò che avviene a raccontarti della creatura non c'è un tema vero e proprio al riguardo ho tracciato un po' di punti che mi sembravano invece interessanti fatemi però sapere la vostra se avete giocato il titolo avete intenzione di recuperarlo e se questo video vi è piaciuto e volete altri video di questo tipo per supportarmi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video